Benvenuti in Social Pharma, la prima rete informatica e globale dedicata ai professionisti del settore farmaceutico e sanitario. In questo video tutorial vi spiegheremo come registrarvi sul nostro portale ed accedere ai servizi digitali pensati su misura per la vostra professione. Cominciamo subito. Nella barra degli indirizzi digita www.socialpharma.it e una volta arrivato sull'home page del portale clicca su registrati. Se sei un farmacista collaboratore, un farmacista ospedaliero, un biologo, un medico, un infermiere ti potrai registrare nella sezione professional cliccando su unisciti a noi. Se invece sei un farmacista titolare la sezione a te dedicata è exclusive. Clicca su unisciti a noi e compila i dati necessari per una corretta registrazione. Inserisci un nome utente facendo attenzione a non lasciare spazi, scegli una password e completa con i tuoi dati anagrafici. Digita poi la provincia di iscrizione all'albo e l'indirizzo di posta elettronica certificata della tua farmacia. L'utilizzo della tua PEC garantisce l'identificazione univoca della tua farmacia ed il rispetto della tua privacy. Ti ricordiamo che la PEC deve essere composta da cinque cifre. Se ad esempio il tuo codice identificativo è 23 la tua PEC sarà 00023-pec.federpharma.it Inserisci poi la tua mail e il tuo ruolo in farmacia. Se la farmacia è una SNC ti invitiamo a registrare prima il farmacista titolare e poi i successivi soci. Inserisci la ragione sociale, l'indirizzo e il numero di telefono della tua farmacia. Immetti quindi il codice di sicurezza indicato, accetta termini e condizioni e clicca su registrati. Dopo questa operazione riceverai sulla tua PEC un link di attivazione del tuo profilo, cliccando il quale concluderai la procedura di registrazione sul portale Social Pharma. Per usufruire dei nostri servizi in maniera più appropriata ti invitiamo a completare il tuo profilo inserendo i dati mancanti. Per effettuare il login clicca su Accedi e inserisci il nome utente e la password da te indicati in fase di registrazione. Spunta la casella Ricordami per memorizzare i tuoi dati, quindi accedi. Clicca quindi sul tuo nome utente, vai su Modifica e seleziona Aggiorna il tuo profilo. A questo punto inserisci luogo e anno di nascita, numero di iscrizione all'albo e telefono personale. Nella sezione Carriera politica e sindacale aggiungi il tuo eventuale ruolo ricoperto all'interno delle associazioni di categoria. Infine nella sezione Farmacia indica la forma giuridica, il codice di avviamento postale, la partita IVA e il codice della tua farmacia. Precisa se si tratta di una farmacia sussidiata, se è localizzata in città oppure in paese, quanti sono i farmacisti soci e i collaboratori, quanti gli addetti ai riparti, i magazzinieri e le altre eventuali figure coinvolte. Completa col tuo fatturato e la percentuale dovuta al Servizio Sanitario Nazionale. Clicca su Aggiorna per concludere. Grazie per l'attenzione, vi aspettiamo online!